Ripresa entro il 15 di giugno e un raddoppio dei quantitativi di produzione rispetto a quelli inizialmente previsti. Sul fronte Beltrame sono giunte solo rassicurazioni dall'incontro tenutosi oggi in provincia di Arezzo, al quale hanno partecipato anche i rappresentanti dell'azienda, la RSU, la Regione Toscana, al Comune di San Giovanni, le sigle sindacali CGL e CISL e l'Associazione Industriali. Dunque la lunga vertenza dello stabilimento san Giovannese potrebbe essere davvero arrivata ad una svolta positiva. L'azienda ha ribadito la piena volontà a proseguire nel percorso già avviato di rilancio dello stabilimento, ha affermato l'assessore provinciale al lavoro Carla Borghesi, con la ripartenza della produzione entro il primo semestre dell'anno. Entro due settimane avremo la data certa della ripresa produttiva, ha aggiunto l'assessore, ma già è stato annunciato che la stessa avverrà entro il 15 giugno con quantitativi di produzione praticamente raddoppiati rispetto alle precedenti previsioni. Per pianificare la ripartenza, tra l'altro, l'azienda, a breve, incontrerà anche gli esponenti del Ministero delle Attività Produttive. Un ulteriore impegno è stato assunto anche sul ricorso agli ammortizzatori sociali, anche oltre l'attuale scadenza di agosto. Il bilancio dell'incontro, insomma, non può che essere positivo. Le rassicurazioni tanto attese sono arrivate, ma adesso alle parole dovranno seguire i fatti.